Vorrei approfittare questo momento per ringraziare tutti quanti voi, a tutta la gente che si è presa un secondo per scrivermi, per mandarmi un messaggino, un vocale su Facebook, chi mi ha taggato, chi mi ha scritto. Grazie mille, grazie di ricordarvi del mio compleanno, anche se so che tanti vi ricordate perché Facebook ve lo ricorda. Non importa, l'importante è che vi siete presi un secondo della vostra quarantena per scrivermi, per mandarmi dei messaggi e questo è una cosa che secondo me vale più di tutto quello che uno può avere. Ragazzi vi voglio bene, speriamo di organizzare al più presto una bellissima festa, una festa dove ci potremo abbracciare, baciare tutti quanti. Un bacione! A presto!